Consigliamo di lavare e sanificare la macchina ogni 4 giorni al massimo. Per fare questa operazione resettiamo le spie, procediamo con il tasto wash per sciogliere il prodotto residuo. Rimuoviamo il toccolo di gocce, andiamo a posizionare una caraffa e andiamo a togliere eventuale prodotto residuo. Scriviamo il rubinetto, il prodotto residuo va eliminato. Riempiamo una caraffa di acqua e andiamo a riempire la vasca superiore. Il prodotto si scioglierà insieme all'acqua e lasciamo il wash acceso. per 2-3 minuti in maniera di agevolare il lavaggio. Posizioniamo la caraffa sotto l'erogatore, apriamo ed eroghiamo acqua e gelato. Procediamo ad inserire un'altra caraffa, ripetiamo questa operazione finché dalla macchina non esce acqua pulita. Vado di nuovo ad erogare l'acqua, continuo a fare questa operazione finché non vedo che l'acqua è abbastanza chiara. A questo punto, smuovo completamente la macchina. Resetto il tasto wash. ṇue. Non è uno uonibiti in fredda, sul consentito frado.